Eccomi, 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 eccomi! Scusatemi, 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 avete roto i coglioni? Scusatemi, scusatemi, grazie a voi Iurista, due anni, tra un po' vado al Nivo, avevo già letto, niente, grazie a L'Anxilo, Teresubino per la live speciale, bella raga, bella raga, è arrivato leggermente da, ma poco, 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 sono qua, sono qua. Buonasera, buonasera, che caldo, che caldo, mannaggia a me e al caldo. Scusa solo se mi porti qualcosa da mangiare, io ho scoperto che l'Ale mi ha tirato pacco per la cena. Stasettimana, ragazzi, live, 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 un casino. Abbiamo questa, poi il 4 alle 6, live speciale che non vi posso dire niente, e venerdì invece la live la finiamo alle 4, sì, alle 4, cioè facciamo la nostra live più quella di Karim, ce la mangiamo. Allora, intanto avvio, tra l'altro ho parlato con una persona fantastica, ci saranno delle collaborazioni in futuro, vedrete, vedrete, vedrete. Ciao Eli, ce la faremo! No, no, basta, voglio andare a casa. Morgana, che bello vedervi tutti. Ciao! Maria Vergine, sono stanco. Una mail? Ah no, allora, questa qui non è. Questa dopo la faccio. Lufthansa, ne, niente. Vediamo nello spam. Io non ho mica niente, Eli. Ah no, per la logistica del press trip. Sì, no, ma scusami, non è quello che ti avevo mandato? Sì, 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 sì. Ma credo che sia la roba che ti ho mandato, sai. Sì. Sì, mi hanno dato i voli e tutto. Poi non so se serva altro. No, ma a te deve arrivare? O tu me le hai mandato? No, io l'ho ricevuta io da loro. Grazie a Boscher per i 63 mesi. Ok, leggerli mail che è stato tutto. Mamma mia. Stamattina mi ha mandato la mail di fuoco il commercialista e cresciata la live. Certo, arriva subito lo schieno. Aspetta. Ma scusami, se ti mando il pdf, non è meglio? Ma io ti mando il pdf. Tiè. È quello che volevi? Zaccaria, grazie a Pinde per la sub. Ho fatto un errore. Ok, no, funziona. Adesso non tocco niente che... Se tocco niente niente, crasha qua. Aspettate che tolgo, che tanto abbiamo raggiunto l'obiettivo. No, non tocco, per l'amor di Dio. Buonasera, buonasera. Quanto carica qua. Buonasera. Voglio una rana emozionante. Adesso vediamo perché finalmente hanno tradotto la mod. Cioè, in realtà hanno aggiustato la mod, che vi ricordo era tutta rotta. In realtà adesso si romperà di nuovo perché aggiungono i draghi. I draghi non le hanno tradotti. Perché praticamente questa mod è una total conversion che fondamentalmente va a cambiare completamente il gioco. È come se fosse un gioco completamente nuovo. Quindi giustamente non hanno potuto tradurre tutto. Come vedete ci sta mettendo questi sei mesi ad avviarsi. Grazie, Andre. Sento la musica, ok. 50 mesi. Mamma mia, quanto tempo! La ringrazio molto. Ok. Sembra andare. Nuova partita. Uuuuuh. Possiamo partire proprio dagli avi e gli antenati dei grandissimi cazzi. Sì, vedi un po'. Mi fa ridere però che è 258 avanti Cristo. No. La mod da Steam, Commoner. Ray Egon. Ma io vorrei, scusatemi, sono a Nord, che poi è facile. Io vorrei fare Eddard Stark, no? Sto nel mio. Eh. A 19 anni. Minchia, portati di merda. Cioè, 19 anni dove? Protettore feudale, può creare reami cadetti, la forma di governo è feudale. Allora, io non sono un tubo perché ovviamente qua c'è tutto il governo di Game of Thrones, quindi non so come funziona. Sotto la forma di governo feudale un signore concede i propri vassalli terre da governare in cambio di leve e tasse. Sembra giusto. Puoi fare i brutti? No. Però c'era la barriera nella mappa, l'ho vista prima. Aspettate, eh. Il ritrattista l'ha invecchiato un po'. Ecco qui. Puoi giocare con i brutti? Ok, però noi siamo belli. Ha trascorso la sua giovinezza come pupillo di John Henry nella valle con il suo amico Robert Baratio, diventando famoso per il suo incrollabile senso dell'onore e della giustizia. Riuscirà Ned a salvare sua sorella dal principe? O superà il destino dei suoi parenti unendosi alle ceneri sotto il drago? Ah, mazza. Cos'è l'Iron Man? L'Iron Man è quella che ti impedisce di fare i salvataggi. Wild Shapira! Grazie mille per la sub! Dai, facciamo Edoardo Starchini. Tosta senza salvataggi. È esclusiva per gli Stark. Bravo, bravo Gabriel, bravo. Bravo. Mi andrebbe un caffè, ma l'ho bevuto poco fa. Non lo posso bere. Mia sorella è nelle mani del principe. Ah, che... Spesate un secondo. Ok. Fatti un decca. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Come... Come... Non ce l'ho. Erano anni che volevo dire sta cagato. Ora posso essere soddisfatto. Sei un amore. C'è il treno comunque. Rinnovate. Allora, mia sorella è nelle mani del principe Edgar. Il re folle a... Ma porca vacca. Mannaggia. George Martin e i suoi nomi de merda. Ci ha rovinato pure il The Ring. Ha bruciato vivo mio padre, mentre Brandon, che è un bel nome, mio fratello maggiore guardava disperato. A Eris II. Il re folle ha chiesto a Jon Arryn, il custode di Robert Baratheon, di me stesso, e di me stesso giustamente, di consegnarmi, probabilmente per subire la stessa sorte della mia famiglia. Jon Arryn ha rifiutato. Bravo! Insieme al mio matrimonio con Catherine Tully delle Terre dei Fiumi, l'Alleanza degli Stark e degli Arryn e dei Baratheon, si prepara a combattere la ribellione. Oh là! Contro il trono di spade. E vattene a fancù. No, e lì non posso. Cioè, ho veramente bevuto quattro caffè oggi. Lasciami stare. E domani uguale col Quidditch! Tutto a colpo di quella scimmia di merda che non finisce. Allora. Noi dove siamo? Noi siamo... Alla faccia del Nord! Ma è mio? Regno indipendente... È tutto mio! Minchia! Ma sono grossissimo! Ma serviva lasciare anche tutto il resto della mappa che è il niente? Cos'è sta roba? È il Grand Canyon qua. No, nuvole. È grosso ma il 90% è steppa innevata. Tembe. Qui c'è Pentos. Myr. Qui c'è il trono di spade. La musica! Questo è copyright. Come ci lo butta il copyright. Però vabbè, è bella. Il Re Folle. Il trono più grande di sé. Ma scusate, non si chiama... Non ha un nome, eh? Si chiama il trono di spade, il governo? In questa regione scrivono i libri. Che in realtà... Actually... Il trono di spade è il nome della serie e del primo libro e della sedia. Ma... La serie di libri si chiama Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Allora, il consiglio. Ci manca il castellano. E che lavoro fa il castellano? Allora... Non voglio fare body shaming. Ma... Aspettate. Adesso vedrete il fantasmagorico Lord Women che è sotto di me. Ora, amico mio Se ti entrano le mani dentro e escono così devi farti venire Non stai bene Cos'è successo? Povero Cristo Niente, scusate, roba mia Sta poco bene il Lord Allora Cosa fa il castellano? Boh, prendiamo Baron Missing Key Ha perso le chiavi lui Boh, prendiamo lui che ha perso le chiavi Posto Poi Stile di vita Seguiamo il marziale Tra l'altro con questa mod i figli dovrebbero essere giusti quindi adesso io dovrei buttare fuori Quello giusto Come si chiama il primo figlio di di Lord Stark? No, non Allora, ho messo la mod che è un'altra mod per avere i figli giusti Però posso decidere Cioè Magari posso mollare mia moglie se voglio Posso dire Catelyn Vattenaffanku Rob Si chiama Mazza che guerra Fermi Cosa sta succedendo? Ma combattono per i fatti loro questi E i miei dove sono? Io dove sono? Eccomi qua Ma come vai sta andando così veloce qua l'Ambaradam? Non mi torna Cioè sta succedendo qualcosa di strano È come A due per Cioè a tre per Ecco qua Mettiamo così più lento Cioè sgambizzano tutti un po' troppo veloci rispetto al gioco Mi raccomando Mi raccomando dopo che Robert è salito sul trono non accettare il suo invito è diventare malo del re Se adesso sembra andare Ok Che succede? Erede non sposato Chi è? Lord Benjamin Benjamin è quello che diventava guardiano della notte E ti sposi questa bella bambina Chi è? Lord Layton Vecchia città Chi è? Posto Quello è Batman Bravo Gabriel Guarda che ne hai una Sei pronto a tutto stasera Io però vorrei capire Non ho capito Va bene Adesso siamo diventati alleati di Vecchia città Io però non sto capendo un cazzo Perché siamo partiti Già in guerra E io sono un po' confuso Spero che sta guerra Stiamo perdendo la guerra Stanno arrivando 8.000 uomini qua Come si è messi? Allora fammi capire bene Non ho messo in pausa Ok Allora Noi siamo 78.000 soldati Loro 121.000 Allora Non si è messi bene però Scusami Adesso Non per fare i rompiballe Però Siamo meno 121.000 È più Di 70.000 Giusto? Grazie sono qua Per i 69 mesi Eh E infatti Ci Battono Non per essere allarmista Però È un problema Scusami Scusami Che giustamente Mi scrivono Perché mi dicono tutti Ma testa di cazzo Perché se Hai deciso di cambiare orari Per riposarti un po' di più E stai facendo la live E c'hanno tutti ragione Cos'è successo? C'è un vuoto infinito Nel mio cuore Perché? Robert È morto Robert Ma doveva diventare re Robert Baratheon È morto Eh vabbè Sti cazzi Non lo so E come la risolviamo adesso? Doveva diventare re Che poi Non mi puoi buttare Comunque così Alla ribalta Dove sono finiti I miei uomini Ma La valle Bella Bellissima Qua c'è gente Incazzata Dappertutto Il nord Sì Ma Fammi capire Chi è questo qua? Ammiraglio e vassaggio Ah ok Ah perché Il capo delincolatore Ok Dove Dov'è che possiamo Chiamare gli eserciti Noi? Cos'è quello? Ah È grande inverno? Oh che bello Guarda Con anche l'alberello Dovevano a pregare Ma che figo Eh 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 Però Insomma Aumentiamo le stalle A grande inverno Ho speso tutti i miei soldi Per questa cosa Vabbè abbiamo perso la guerra E quindi A Eris Il re folle Rimane re Cioè po' Chi è questo qua adesso? Ah Stannis Tra l'altro L'attore che fa Stannis Io vi devo consigliare Una serie che è Fighissima Si chiama Chaos Su Netflix E c'è Stannis E c'è Stannis Tra l'altro Che fa Un Non mi ricordo più Chi è che fa Però ha un bellissimo Setting Che è praticamente Una società attuale Però Con gli dei greci Quindi È come se Oggi Ci fossero gli dei greci È bello Però Non mi fa impazzire Il fatto che Non ci siano Per davvero i mostri Quella è una roba Che mi ha un po' Turbato Però Sono tutte persone A parte gli dei Che sono comunque dei Ma visivamente Solo persone L'edicchetta di mia moglie Partirerà un bambino Bene Bene Ne sono contento Cos'è questo? Però siamo almeno 42 Cioè questa guerra è persa Ah eccoli qua i miei uomini Eh ma andiamone un attimino A rifornirsi alla valle Però Non la vedo bene Questa storia è inventata In un universo alternativo In cui Martin ha ucciso Più personaggi del solito Però Scusami In teoria Questa guerra Non dovrebbe essere Un easy win Cioè L'abbiamo presi subito No Chaos con la K Sì 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 Chaos con la K Oltre al pesce frito Qua davanti Hanno messo un banchetto Con le salamelle E la griglia Vi apri il porca troia Ho fame Fazione creata contro di me Fazione creata contro di me Chi è che vuole Cos'è che vuole Potere militare alto Ma Scemi Scemi Ma c'è un botto di gente Cos'è un banchetto Cos'è questo Oh Vediamo se riusciamo Iniziamo un po' a unirli va Mazza che armatina Ok 25.000 uomini Qua Che giro state facendo Deficienti Non dovete passare per di là Lì vi ammazzano Andiamo per di qua Da vigliacconi Dobbiamo giocare Eh Perbacco Andate qui No Da qui T'ho detto Lei vuole combattere a settembre Mi scusi Anche lei Hai ragione È l'ottavo giorno Di prima luna Qualunque cosa voglia dire È l'unione Fa Enrico sforza Va bene Partita veramente male Comunque Richiedi un prestito No Ma che Basta Mi devo rileggere i libri Adesso per capire qualcosa Casino Allora Adesso voi andate qua E gli inculate questo Poi da lì Vediamo che combinare Ma in realtà Scusami un attimo Mio figlio di re De Rob 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 Stark Robertino Meglio Robertino Eh Suona meglio Robertino E Scusatemi un attimo Ma se noi andiamo A rompergli il culo Alla capitale Dico Ah merda Amore un botto di gente Guarda se lo facciamo Ah vabbè sti cazzi Che ci frega Sono stato catturato E detenuto Contro la mia volontà Da Aerys Quando è successa Sta cosa Quando mi ha catturato Abbiamo perso la guerra E io sono in prigione Come punizione per il tuo crimine Tradimento Aerys Decretato che Che Non sono più detenuto E sono lì Per tornare a casa O ovunque io voglia Ok ma Quella era la punizione Ma hanno venuto tutto Ma scusami Ma che cazzo Ma in un quarto d'ora Ma abbiamo stravolto 70 libri Riproviamo Eh Riproviamo Facciamo Cambia persona No Esci da Rifacciamo Non voglio salvare Capito Però Non si fa così Allora Nuova partita Scusa Da che pulpito Cioè da che pulpito Dov'è che sarebbe stata facile Questa cosa Abbiamo perso subito Vabbè Avevo un finale È comunque un finale migliore Dell'ottava stagione Beh Beh Ok e rifacciamo Adesso Pianino Ok Pianino Ora Il castellano Assegniamo lui Che mi sembra uno Che ne sa Poi Fammi capire bene Perché non abbiamo L'intero esercito Schierato Se siamo in guerra Chiedo Allora Qua ci sono 10.000 uomini Però solamente 1.600 I miei Ma io li vorrei Tutti i miei Allora E dove richiama Winterfell Ah è qualità bassa Come esercito Fammi vedere Facciamo così Boh Facciamo Raduniamoli qua Che magari Ecco Non sono 60 eserciti Diversi Ma Sono solo uno Mazza Tutti incazzati Qui Buon pomeriggio Anzi Buonasera Ormai Sono le 6 di sera Dai Ok Che succede qua Corte reale Eh non ci sono Cos'è Ma non fatti di corte Stendardo Stendardo della dinastia Stark Oh Guarda che bello E qua ci mettiamo Stendardo della casata Stark La stessa roba Ok In passe strategica Sono seduto attorno Al tavolo Sul quale è poggiata La mappa Assieme a me Ci sono Lord Odryu E Lord Rodrik Ok Stiamo discutendo Sulla nostra strategia Per la guerra In corso Odryu Sbatte il pugno Sul tavolo E afferma A gran voce Che dovremmo Caricare il nemico Direttamente E schiacciarlo Con la sola potenza Dei nostri eserciti Mentre Rodrik Spiega Come dobbiamo Prima Vedere Cosa fanno I nostri nemici Ma io Seguo Rodrik Che ne sa No Però adesso L'esercito Sta lavorando Bene Vedo Guarda come Siamo messi Qua Partiamo Madonna Ma che viaggio Lungo Ma questi Mi arrivano Morti A destinations No una mod Una mod Ragazzi Non c'è l'italiano Non c'è l'italiano Questa è Allora La mod Di Game of Thrones Ha una mod Italiana Quindi in questo momento Sto utilizzando La mod italiana Per moddare L'intero gioco In italiano La mod di Game of Thrones Per avere la roba Di Game of Thrones E la mod italiana Di Game of Thrones Per avere la roba Di Game of Thrones Non sei in italiano Sì c'è una matrioska Di mod Infatti il gioco Mi pesa un boato Comunque a sto punto L'Alem ha detto Ti incurri per la cena E io per la cena Mi ordinerò Qualcosa Cosa mi ordino? Bella domanda Direte voi Perché io C'ho una fame bestiale Ok 26.000 uomini Vediamo Vediamo in quanto Riusciamo a prenderla Sta città Sei mesi Dai Kebab Stavo cercando Di stare Leggero C'è un fubento Al messicano Il kebab Il più veloce E con un fubento Da arrivare Prendo l'insalata Da McDonald's Ragazzi Non mi mettete fame A parte il fatto Che il poké Fa cacare Cioè non è che Fa cacare Che boh Se devo mangiare Riso A sto punto Un po' uno spreco Non c'è E riordina Ecco qua Posso distrarmi un secondo Che mi ordinano la cena Un euro e sessanta L'acqua fortuna Che ce ne ho Stavolta Prima possibile Aspetta che ho sbagliato Porca di una miseria Boh Ok E questo è fatto Già boh Grazie per i 22 mesi Buono E true epicness Buonasera sia il gatto Passo per rinnovare il volo Dato che da me È luna di notte Dorma Che che fai Rinnovare la benedizione Per avere il visto nuovo Dato che sto aspettando Da un mese Tanti auguri Darmi Ciao Good Oh mia moglie è incinta Bene 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 È una benedizione Tutto quello che volete Allora Conquistiamo o no Sta maledetta Primavera Mazza che disastro 20 giorni Ma sbaglio Con sta mod Va via molto più veloce Il gioco Cioè uno È per già esperti Credo Se lo metto al massimo Cosa succede? Benil Facciamoli rifocillare Un attimo Che fretta c'era Maledetta parrucchiera Cosa facciamo? Proviamo ad andare a colpire direttamente il cuore Il cuore della città Il cuore del trono Il cuore delle spalle Cos'è? Mi rete non ha Ah eh Potere dell'alleanza Tiè Posso chiamare degli alleati in guerra? È possibile porre fine la propria regenza Ah miseria No Ma Ben è più giovane di Ed Non lo sapevo Io direi di provare a tirarglielo direttamente nel culo Qua nei sette regni Però non farei quel giro lì Cacchio Si può passare per di qua Eh è meglio Spendiamo un po' di soldi in viaggio Però almeno Non ci muore nessuno nel mentre Eh Facciamo un giro per le isole Ci rifocilliamo E paf Arriviamo e Attaccati Tutti morti Loro non mi seguono però Eh Qui finisce male La regenza cosa sarebbe Sai che non ho la minima idea Tiè Andiamo a inculare il re folle Diciamo Matto Matto Quattro anni Beh è un tempo giusto per Per prendere la fortezza rossa Se qualcuno Non faccio nomi Mi desse la mano Eh Cioè guarda che c'è il tempio Carino che c'è tutto Città di collina Oh Che bei dettagli Ragazzi veramente Quattro anni Non mi dà una mano nessuno Ragazzi vado in debito Tra poco Ma venite a darmi una mano Questi sono stronzi veri Dovuto ci sia la fia per darti una mano Ma siamo in guerra Richiedo il prestito della banca di ferro Stiamo andando bene Fazione creata contro di me No Lasciatemi stare C'è del malcontento Lo influenzo Dico guarda dai No per favore Per favore no Per piacere no Ti prego no Ma invece di attaccare il capitale Magari chiedi più agli alleati Eh ho capito Ma io lo do per scontato Scusate non sono Guarda questi Ma cosa stanno facendo Su qui a pascolare le vacche Però al di là di quello L'esercito nemico Dov'è? Tre anni Adesso voglio vedere Cacchio eh Robertino Il mio figliolino Eccolo là No no Adesso guarda Vinco la guerra da solo Lo cazzo Guarda Guarda come la Vido In cosa Tre anni Tre anni Fatta Sposa Benji Stark Con Cersei Così riprendi Lannister Come alleato Sei un abile Stratega Simo Allora Potere Dell'alleanza Eh no C'è C'è lui C'è Golden Globe Melena Alie Ariella Alissa Isilla Gwyn Giselle Mi sa che non è ancora nata Sai C'è Brienne Di Tart Com'è possibile Quanti anni ha No beh a tre anni Ci sta Ma no perché Tywin Aspetta Dov'è qua Ecco qua E no è Scusa Perché l'era del principale Tyron Perché Jamie Cosa succede A Jamie Ah perché è una guardia reale Quindi non può essere erede Ma perché è nudo e pelato Jamie Senza dio avventuriero Ah Eh vabbè Va Credo Va bene Allora Ah Cersei ha già 17 anni Senti un po' Tywin Lui è alleato con Con gli altri Con il re folle No E con noi No Allora Senti un po' Tywin Eh Se ti do Mio figlio Ecco qua Chi mi dai? Mirella Chi cazzo è Mirella Lannister No Dammi Dammi Una buona Fertilità Perché c'è Tutti Perché non mi da Sua figlia? No Geoffrey Certo che Geoffrey Deve nascere No Perché non mi da Cersei? Me lo impedisce Proprio? Quindi Il matrimonio Non determina L'alleanza Eh Per forza Quanti Lannister ci sono Qua Forse perché Non posso proprio Allearmi Quei Lannister In questo momento Vabbè Allora Tywin Va a fanculo Andiamo da questi Che comunque 11.000 uomini Dai Non ci fanno proprio schifo Aspettate che mi scrive La Robertina Ok Orca miseria Ma Questi non Vengono a rompermi il culo A me Vero? Beh Eh Tre anni Figlia della mia dinastia Al 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 Alisanna Che cazzo è? Bu Eccellente Assaltiamo Mol forte 620 vittime Al giorno Dai Va bene 45 giorni Se ne parli più Dai Va bene 46 giorni 42 giorni Tutti quegli uomini Morti Tantina 620 al giorno Ma cosa me ne frega A me Dai Sono un po' Di sacrifici Che si fanno Per Per vincere Le guerre No Eh Come ho dimezzato L'esercito Però in 40 giorni È fatta Merda Arrivano Scappate Mi acchiappano Ok C'è paura Che paura Aiuto Aiuto Che paura Chi sono questi Alta signoria Della focce Del tridente Che arrivano Arrivano Merda Ci prendono Mi sono fermato Un secondo Aiuto Ragazzi Ragazzi Aiuto Ci sono i cattivi Sono comunque Più loro Non è possibile Sta roba Boh Boh Anche la roba Mi si grida Sui nuovi orari E Robby Questa settimana È un incubo Un incubo Assoluto È una live extra Stiamo giocando A Game of Thrones Ecco qua Perché mi sgridano tutti Robby Non mi sgridare Lasciami stare È persa? Mi sa che è persa È persa Legittimità persa La tua sconfitta Ha gettato un'onta Sulla tua guida È impossibile Comunque vincere Su sto gioco Io lo dico Boh Oh io ho fatto Di tutto Per conquistare La capitale Se si stronzi Però non mi danno Una mano Non so che fare Quanti uomini Ci sono rimasti Seimila Ma è difficile Qui i setterreni Sono tutti incazzati Amico fatto prigioniero Chi è? No Lord John della valle È stato catturato Dal re folle Ma senti un po' Non posso organizzare Un matrimonio Con il re folle È morto il re folle In circostanze misteriose Invalidata la guerra No niente Adesso c'è il re Rhaegar Un'altra sigillata Con il brasone Da casa dei Targaryen Arrivata da Prodo del re I corvi portano Le notizie funeste Da tutto il regno Rhaegar è stato ucciso Dal loro proprietore Robert Il disgraziato Ok Eh no Però lui È diventato lui È È stato ucciso Egon Ah beh Leggiamo Leggiamo Egon Targaryen È stato proclamato Legittimo successore I setterreni Mentre alcuni Piangono Scomparso Le sue grazie Si dice che alcuni Abbiano iniziato A manifestare Il loro malcontro Ok Ma qui non ho capito E hanno ammazzato pure lui? Contro che cazzo sono in guerra? Contro il boccia? Ma Col bambino sono in guerra Ma ammazzatelo No? Mi sono perso Non so Andiamo a pescare noi nel frattempo Durante una passeggiata nel mio dominio Trovo alcuni stagni ghiacciati Quando la temperatura è più calda Solitamente sono un ottimo posto per pescare Ma sembra che nemmeno il clima più freddo Abbia dissuaso alcuni dei piccoli Alcuni piccoli Dal tentare alla fortuna con la pesca nel ghiaccio Eh Peschiamo con i bambini C'è una guerra sanguinosa E noi Ma sì dai Peschiamo Che ce frega Se erano provviste per la guerra Boh Ma Non ho capito C'è scusami Quindi il bambino Non possiamo uccidere il bambino Omicidio Oh 5% Ci voglio credere Credo nel potere dell'omicidio No di qua Di qua Deficienti Prendete il traghetto Prendete Ma perché Ma perché devono fare tutto il giro Scusa Sei qua Attraversa No Oh Ah Pi 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 Eh Crusader ragazzi È un gioco che richiede tante tante ore di tutorial Per capire che Anche solo che cazzo stai combinando Però una volta che Che sei entrato nel mood È una roba che è Fighissima Cioè succede della roba Veramente incredibile Vediamo Sempre 4 anni Magari Meno Che succede? Saccheggio Maledico i selvaggi 3 anni Beh Dove eravamo rimasti? Oh nessuno che mi dà una mano Eh Cioè io sono l'unico che ha avuto l'idea intelligente Sei in debito E lo so Non potevo chiedere soldi alla banca di ferro Ah ecco qua Sontuoso luminoso e morbido Ma basta anche qui i tappeti avvelenati Regaliamo il tappeto al bambino Allora Allora Invito dei capitani Richiedi un prestito Vai Quanto mi danno? Dirigenti si uniscono al complotto Ma ha dato un cazzo però Scusi Dottore della banca di ferro Qua dov'è? Perché non Ah ecco qua Invitati dalla banca Ah perché bisogna andare fisicamente lì Merda Vado in bas Buonasera I miei servitori mi portano notizie che 3 invitati dalla banca di ferro di Bravos Sono arrivati cercando un'udienza con me Ok A tre inviati scusate ho letto male Intrigato Accetto di incontrarli Buonasera Gli stranieri sembrano fuori posto nella mia sala E i loro cappelli a tre piani E le vesti viole E un forte contrasto col cuoio bollito Scusami Cosa cazzo sono i cappelli a tre piani? C'è ok Non so I cappelli a tre piani Il loro accento è difficile da capire Tingendosi dei colori dell'est La loro proposta tuttavia è abbastanza chiara Offro una scelta tra tre prestiti Uno modesto Uno significativo E un terzo per una somma che fa sollevare il mio sopracciglio Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quelqu'è si chiama di prendere prestiti Dovrà essere restituita con interesse Allora cento Cinquecento Mille Mille Prendo i mille Porca di una vacca Prendi i mille Prendi i mille Chiamo i mercenari I mercenari più stronzi del governo Proprio qua Ma sono poco e niente Sti uomini qua Non bastano Non bastano I mercenari Qua Prendi i mille Che ci compro con mille? Niente Grazie fra per il ride Non la vedo bene Buonasera Buonasera Stiamo perdendo Promemor Merda Ho lasciato la sertralina a casa Eh Non avevo previsto Di essere qua a quest'ora Vabbè La prenderò dopo Che devo fare Oh però Questi si stanno avvicinando Mi potrebbero dare una mano Visto che manca due anni Qua A buttar giù tutto Dai Fate il favore Cazzo Buonasera Buonasera Merda 99% Stanno vincendo gli altri Eh Bisogna conquistargli Il conquistabile Dai 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 70% del piccione viaggiatore Buono Aspetta Posso invitare qualcuno Ok Posso invitare gente Che mi da più percentuale Corrompi Ecco qua C'è sto bambino Deve Ah posso Chiedere a Jamie Lannister Di No l'ho già chiesto Jamie Lannister Ha detto sì Ok C'è il bambino C'è il bambino deve morire Pochi cazzi È che siamo al 99% Stiamo per perdere la guerra Perché sono stressato Perché sono giusto Il senso di colpo e la vergogna Mi stanno tormentando Ma sti cazzi Che ti frega È un bambino Merita la morte Ho scoperto a caso Lo strategico di Gott C'è uno strategico di Game of Thrones C'è quello per cellulare Ma è un po' una merda I draghi ci sono Nel prossimo aggiornamento Però non credo Che sarà più tradotto In italiano Quindi ve lo dico Però le forti Da un re rabbioso Ho capito Io dai È per il bene comune Cioè voi non lo ammazzereste Hitler bambino Solito discorso Dai 21 mesi 21 mesi Oh no Oh no Oh no Mi sa che non ce l'abbiamo 21 mesi Ah mia moglie è incinta A me fa piacere Ma Senti un po' Tywin Come ti chiami Non lo so Ci organizziamo un matrimonio Qualcosa Il fabbro di corno Non credo che ti freghi un cazzo Senti un attimo Diventiamo amici Se po' Vabbè Niente Ai ai 20 mesi Ma se nessuno si avvicina a me Va bene No Hanno scoperto che vuole uccidere il bambino Maledizione Sono stato catturato e detenuto Ancora Perché? Perché abbiamo perso la guerra Di nuovo Ma come si fa? Scusate ma Come cazzo si vince sta guerra di merda? Non è possibile A Game of Thrones Genesis Non ce l'ho presente Proviamo a far così Arrivo fra due minuti Il globo Arrivo subito Guarda che si è fermato No no Che arriva tra due minuti Questo qui si è fermato Si è fermato A prendere un'altra roba No si sta muovendo Si muove Ok Si muove Dai mio esercito Non si sta muovendo Eccoli Questo è quello di 8000 uomini No ma è quello che abbiamo fatto prima Questo Non ci sono morti tutti questo Se questo è quello della pesca Perfetto Ok si sta arrivando Arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Perché? Vabbè, ma non è possibile, dai. Ma scusatemi, ma è sbagliato. Non è una cosa possibile questa qui. Quanta carta per un'insalata. Che poi è comodissima da mangiare l'insalata qui. Però almeno questo gioco si può gestire tutto. Allora, adesso ricominciamo. Esci dalla partita. Facciamo così. Allora. Allora. 40 centimetri. E siamo a 3. Non si riesce. sta guerra non sa da fare. Sta guerra non sa da fare, veramente. Mi basterebbe un attimino capire perché non mi ha messo l'intero esercito a combattere. vorrei capire. Vorrei capirla sta roba. Ci dobbiamo perdere di base proprio. Capisci un cazzo. Capisci un cazzo, Kog. Allora. Rifacciamo. Allontano il mic. Capisci un cazzo. Allora. Con calma. Forse perché gioco. Come sono abituato a giocare. Ma questo gioco va giocato diverso. Però mi pare comunque strano. Va bene. Si è molto approvato, non me l'ha fatto fare. Mi sono proprio rotto le palle, questa guerra. Divento io il re folle, Simo. Poi loro hanno banalmente più uomini, quindi non so come dovrebbe finire questa storia. Buongiorno, 16 mesi grazie. Quando il cuore ci sono, eh. Mi hanno mollato qua. Stronzi. Stronzi. Colgo, devi stare tranquillo. Mi sto nutriendo e sono in live per voi. Guardate questo. Ciao, Gab. No, no, non recupero. Dax, buonasera, grazie. Quanto ci vuole? Ah, fatto. Ah, merda, i cattivi sono dei barate o no? Ok. 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 Salve va bene. Ok. Ok. Oppure volevo uccidere Reinhold. Va bene la nuova schedule, questo è un extra, eh? Ivo, grazie per i tre mesi. Come Crusader. Ah, sì, mi ricordo. Mi salata in me che è proprio buona. No, Farco. Quello nuovo, ma... Non è lo stesso. No, non è lattuga, è misticanza. Comunque ciliegini. L'unica nota negativa, o positiva, è che devo prendere i nuggets perché solo l'insalata non me la portano. Sì, bisogna raggiungere un limite di spesa. Dove sono tutti? Teni cazzo, Farco. Qua c'è la forza del tridente. E qui dove c'è la battaglia incredibile, no? Forse bisogna seguire la trama fino a qua. Però prima Robert era morto, mentre io ero da un'altra parte. Forse per quello era morto. Forse per quello era morto. Il wrap è molto buono, sì. Il mio fratello è tutto malaticcio adesso, perfetto. Alla barriera. Vabbè che non ci mangio da quasi un anno. Eh, buon per te. Allora, io sto cercando di fare il bravo. Mangiato ogni insalata e un paio di nuggets, che comunque non avrei dovuto. Però sto cercando di fare il bravo in generale, come vedete. Sia economicamente che anche per non diventare una balena, cosa che già sono. Però... Tu sei bello, ciacco. Brea mi sembra esagerato. Eh, abbastanza, dai. Mi è capitato sotto mano la live dove avevo giocato Monster Hunter Wars da casa vecchia. Minchia, ero un fringuello. Che casatta siamo? Siamo gli Stark. Che in realtà io alle 8 comunque voglio chiudere e andare, eh. Quindi voglio vincere questa guerra prima che succeda. Cioè, non è possibile. Questione d'orgoglio. Ma veramente, tra l'altro, a facile stiamo giocando. Io non riesco a capire come sia possibile questa cosa. Ascolta, ma vai qua. Incugliamoli direttamente il bosco di Salice. Forse faccio... Non è per te, ma per loro. E effettivamente... 16 mesi, minchia. Effettivamente il gioco correva rispetto a quello a cui siamo abituati noi. Quindi non lo so. Cioè, perché si vedono la velocità classica. Guardate che vanno via molto più veloci, vedete? Questa è la velocità che... Che succede? Andiamo a caccia. Non mi sembra il caso. E invece bisogna. Guarda, che culo. È andata bene. Ok, è morto... Eris. Mi piace che loro non facciano assolutamente un cazzo. Anziché darmi una mano. Bravi. Dov'anno? Sono in guerra con il trono di spade. Che non sono più a forte tempesta. A capo tempesta. Dove sono? Merda, sono qua! Mi matano! Mi matano! Non è possibile sta cosa. Ragazzi, non è possibile. Cosa stanno facendo i miei alleati? Scappano! Anfami! Anfami! E' morto Rager. Io vi giuro non ho parole. Vi giuro non ho proprio parole. Boh. Ok. Ok. Ma è impossibile da vincere qua. Come fai? Se mi guardo contro un bambino, letteralmente. Boh. Fai a cinque minuti fa stavano vincendo. Minchia, navalle non riesce a... A tenerci. Veramente? Ma vaffanculo anche alla valle. Eh, niente. Torniamo qua. Io vi giuro non ho... Non ho idea, ragazzi. Cioè... Scusate. Non so... Non so proprio come gestirla. Non ho... Sono rimasto senza parole. Boh. Secondo me c'è qualcosa che non va nella difficoltà. perché non... Cioè... Porcavacca mi asfaltano. Mi asfaltano ma tra l'altro dovrebbero proprio perdere di trama. Però loro sono fortissimi. Forse ci deve essere per forza sta benedetta battaglia con... Non so. Rifociliamo i nostri uomini... E preghiamo Gesù Cristo. Non... Non ho idea. Petra. Eh, vabbè. Ah, con mio fratello. Vabbò. Quindi consanguinei. Ma sì che ci frega noi. Lui mi sembra bello incazzato. Via. Ne ho 29.000 uomini. Eh, però che servono se tanto loro ne hanno il triplo. Cioè, boh. Guarda. Eh, lo ci inculano. Io voglio riprovare ad andare a capitale. Ma che ci frega. Stava funzionando prima. Tanto anche se vado a dare una mano a loro, non siamo abbastanza. Oh no, ci sono i bubboni agli uomini del nord. Ma pure qua la peste c'è. Ecco qua. Forse abbiamo gli alleati avversari. E che gli devo dire agli alleati avversari? Cioè, a lui... Cosa gli va... Scusi. A lui dall'alto piano. Omicidio. 5%. Ma è più probabile ammazzare il bambino a sto punto? Solo che è morto il bambino... Ce n'è un altro. Capito? Non posso giurargli fedeltà. Tre anni. E aspettiamo sti benedetti tre anni. Che vi devo dire? Chiediamo soldi alla banca di ferro. Ce la gestiamo un po' così. Fai l'amore con qualcuno che è un esercito enorme. Non riesco! Ma poi Eddard non lo farebbe mai. Vabbè, sono io il capo di tutto. Dammi tutti i soldi. La reggenza sta finendo. Quelli continuano a prenderle. Tre anni di battaglia. Dai, andiamo avanti veloce. Vediamo che succede. Prego, prego, salve. Due anni. Sansa! È arrivata Sansa! Andiamo avanti veloce. Bea, la mia conoscente è morta. Vabbè. Sti cazzi. 17 mesi. Mia moglie sta per morire. Dai, misure drastiche. Pure mio figlio sta per morire. Febbre verde. Che cazzo è la febbre verde? Perché mia moglie è senza un occhio adesso? Aiuto! Siamo tutti malati! È morta mia moglie! Ho capito, però... Cioè, che disastro! Maestro d'armi promosso. Bene, mi fa piacere. Adesso però possiamo vincere una guerra? Devo sposarmi. Guarda, mio figlio sta bene di nuovo. Mi fa piacere. E sto male io! Ecco qua. Aspetta... È solo morto. Io non so cosa cacchio dire. È un incubo. Questo gioco... Sono morti tutti. Però stiamo per vincere la guerra. Anche il maestro della stalla è morto! Eh, ma avevo capito! Ma scusami! Ma è un'ecatombe! Mia sorella ha la febbre! Ma basta! Sta male pure lei! Allora... Allora... Mi viene da dire che è impossibile vincere. Io non... Non so... Vi giuro, io non so cosa dire. Ma sto male da dove viene? Ah! L'ho chiuso il gioco. L'ho speciale finita male. Tutti morti per la febbre verde. Boh! Panzone, grazie per i 31 mesi. Grazie anche ad Alex per gli 11. Io non so cosa dire. Cioè, mi dispiace. Io ci ho provato. Non è fattibile proprio. Ma perché? Cioè, ma... Boh! O il gioco... Cioè, la mod non prevedeva i DLC. Perché andava veramente tutto troppo veloce. Era tutto esageratamente difficile. E' stato un incubo. Oh! Non sono bastate le mie 237 ore. Di esperienza. Vabbè. Allora, noi ci vediamo domani mattina. Pelatti, sto chiudendo! Sto chiudendo. Perché... Allora, in un'ora e mezza non sono riuscito a fare niente. Vi giuro, non sono riuscito a fare niente. Sono morto e basta. Sono molto triste di questa cosa qua. Veramente tristissimo. Boh. Allora. Vi mando da lì, non sto punto? Avevo capito, l'ho fatto apposta. Ma che cazzo... Cosa è successo? Perché mi ha cercato lì, non è la chat? No. Grazie a Ferrir per i nove mesi. Ci vediamo domani mattina con quella maledetta scimmia. E poi esce anche il Quidditch. Quindi domani, mi sa che anche domani si allunga la live. Ma vediamo. Va bene? Vi auguro una buona serata. Una buona...